Buonasera, sono Rossella Pugliese e volevo ringraziare per questo invito, per questo premio che mi viene dato Francesco Fiumarella, che è il direttore artistico di questa grande manifestazione. Volevo veramente ringraziare Francesco perché, cosa fa Francesco? Scova degli attori che fanno in sordina anche il loro lavoro, come quelli più riconosciuti, quelli visibili ad un pubblico più grande e premia degli attori di spessore che riescono a lavorare e svolgono il loro lavoro nella quotidianità.